Salve a tutti i razzi, io sono Maruco e oggi torniamo in un nuovo episodio della Vanilla. Siamo arrivati al cinquantesimo episodio e come vi avevo annunciato sarà un episodio speciale in cui andremo in giro per il mondo a vedere tutto ciò che ho fatto in questi primi 50 episodi di gameplay. Come vedete cominciamo il nostro giro dal tempio dei progetti alle mie spalle. Infatti potete vedere il grosso pilastro che ha tutti i nostri progetti fatti. Eccoli qua. Direi che possiamo però partire dal principio. La storia di questo mondo è un po' particolare perché quando l'ho generato ho deciso di dare il mio numero preferito come SID ovvero il 13 e mi sono ritrovato in un'isoletta sponato in mezzo al nulla e mezzo all'oceano ed ero già sfiduciato, volevo cambiare il SID, volevo cambiare il mondo ma ho deciso comunque di tagliare l'unico alberello che c'era su quell'isola, navigare e ho raggiunto la terraferma e sono arrivato dopo aver superato la taiga qua. In quello che è il mio paradiso ragazzi. Devo dire che non mi sono pentito assolutamente di aver trovato questo posto perché mi piace un sacco, abbiamo una varietà di biomi immensa dalla Sunflower Forest alle foreste normali, all'Extreme Hills, alla taiga, alla giungla abbiamo tantissimi biomi e soprattutto la cosa più importante che ha catturato la mia attenzione è sicuramente lei l'isola sospesa generata automaticamente dal mondo per prima cosa ho deciso infatti di stabilirmi lì e fare la casa là sopra e per farla ho creato una piccola casetta e ho messo il nostro ascensore quindi in realtà quella è stata la nostra prima costruzione ora ve la faccio vedere e questa è molto semplice e come sistema di saliscendi usa un sistema di salita con i carti e un sistema di discesa con l'acqua poi arriviamo nella casetta dell'ascensore e siamo sull'isola sospesa che ho modificato un po', ho messo le staccionate ho messo le torce, l'ho illuminata per bene e l'altra costruzione che ho fatto subito è stata la mia casetta che mi piace un sacco perché sembra una casa vera eccola qua e non è molto grande in realtà perché se ci pensate ogni volta nelle case di Minecraft non ci stiamo tanto andiamo sempre in esplorazione quindi abbiamo una semplicissima cucina con sala da pranzo abbiamo poi qua un minuscolo salotto e poi al secondo piano abbiamo delle ceste con delle librerie e il nostro letto con un'altra ceste che è vuota ovviamente è tutto vuoto e quindi questa è la nostra piccola casetta usciti da qua possiamo però vedere dall'isola sospesa tutto il mio mondo, tutte le costruzioni che ho fatto e quindi abbiamo una visione a 360 gradi di ciò che ho fatto ora scendiamo e vediamo la prima costruzione vicina una volta ridisceso l'ascensore e ci ritroviamo nel fulcro del mio mondo ovvero il centro che ho decorato con questi pilastri con questa fontana dei fiori, dell'erba e degli alberi e la prima costruzione che abbiamo portato a di mano è sicuramente il magazzino che ho rifatto all'inizio non era assolutamente così ma poi ho deciso, visto che siamo andati avanti con il gameplay avevamo altri materiali, di ampliarlo e ora ve lo faccio vedere abbiamo il primo piano con queste ceste qua abbiamo il reparto della natura con tutto il legno eccetera foglie, vegetali mentre qua abbiamo i blocchi da costruzione e invece qua si scende, si scende raggiungiamo il primo piano e qui abbiamo le nostre armature abbiamo le ceste qua abbiamo la stanza delle fornaci bella fornita di fornaci mentre qua giù abbiamo la stanza principale ovvero quella più ricca abbiamo da questa parte davanti a noi i due loculi, mettiamola così dove abbiamo le due dimensioni il nether e l'end che non abbiamo ancora raggiunto abbiamo poi da questa parte tutti i materiali più rari dal carbone al diamante qua abbiamo oggetti vari qua invece abbiamo qualcosa di abbastanza particolare abbiamo una cesta per ogni tipo di incantesimo e ne abbiamo anche una mix che racchiude i libri che hanno più incantesimi abbiamo poi la zona di tutte le lane colorate ma la particolarità di questo magazzino è che è collegato direttamente tramite questa cesta alla miniera in pratica quando io scendo in miniera carico una cesta col cart che viene qua svuota tutto il contenuto e torna nella miniera e quindi ci permette di risparmiare dei viaggi e avere sempre più spazio nell'inventario per continuare a minare e questo è il nostro magazzino per il mio mondo poi volevo qualcosa di particolare non volevo tutte le farm tutte le costruzioni vicine a casa ma volevo creare un qualcosa in espansione ecco perché è utilissimo per me il cavallo con il cavallo io mi muovo e vado dappertutto e ho cercato di spargere un po' il mio mondo e costruire nelle varie direzioni io direi che possiamo partire da questa parte quindi abbiamo il nostro bel sentiero raggiungiamo e superiamo una piccola collina una piccola discesa e ci porta nella zona degli animali abbiamo per prima l'arena bovina eccola qua la nostra arena bovina appunto racchiude le nostre mucche è molto semplice come struttura molto legno molta stonne un albero della giungla al centro e qua io farmo le mie mucche qui di fronte invece abbiamo la cupola suina che riprende un po' lo stesso stile ovvero una struttura tonda e qua dentro abbiamo i maiali eccoli qua la struttura è un po' diversa c'è anche del vetro in cima delle liane e ho deciso per i maiali di fare qualcosa di un pochino più selvaggio ora mangio perché ho fame e ora vediamo l'ultima struttura di questa zona è in realtà l'ultima struttura che ho fatto molto recente perché nel mio mondo sono riuscito a trovare i lama e ho deciso di dedicare loro un tempio il tempio lama appunto che vediamo da questa parte nel suo complesso ho fatto un design un po' particolare e soprattutto è stato un progetto molto molto ambizioso da fare ora noi scendiamo e ci ritroviamo nella cellula dei lama guardate un po' sono già tutti adulti li devo già spostare al piano inferiore che come vedete si raggiunge da due scale e raggiungiamo appunto le cripte dei lama queste ospiteranno tutti i lama di tutti i colori ho deciso di fare questo design con questi corsi d'acqua un po' particolari che passano per tutto il perimetro e devo dire che mi piace particolarmente abbiamo l'effetto particolare dato dalla clea arancione contro la sand e qua nei buchi centrali ci andranno i pezzi di lana corrispondenti del colore del tappetino ovvero della copertura del lama qua ad esempio ci sarà il lama con la copertura arancione laggiù rossa gialla eccetera eccetera ora possiamo risalire e dare uno sguardo ai nostri lama che pian piano verranno trasportati nelle cripte e lasceremo solo due lama che si riprodurranno risalendo la collina da questa parte possiamo decidere di andare invece dalla parte opposta ovvero questa in questa zona abbiamo semplicemente un piccolissimo orto delle zucche molto piccolo che feci nei primi episodi abbiamo poi la zona delle farm di vegetali che in realtà mi piace ma non troppo vorrei fare una zona un pochino migliore e ben strutturata per le farm di vegetali ma soprattutto abbiamo qualcosa di importante perché nei pressi di casa ho trovato davvero per fortuna e grazie a un buco fatto da un creeper in diretta in realtà uno spawner di scheletri che ho subito sfruttato con i buon blocchi ho fatto questa struttura scheletro e ho fatto la scalinata che appunto ci fa raggiungere lo spawner abbiamo qua una stanza con un letto per dormire sei notte abbiamo anche qua un sistema di risalita e di discesa con l'acqua mentre risaliamo con i minecart ci buttiamo e raggiungiamo lo spawner di scheletri che è questo è fatto in questo modo abbiamo tante chest con tanto tanto materiale droppato dagli scheletri e anche questo l'ho dovuto fixare con l'uscita della 1.11 perché all'inizio sfruttava un blocco o meglio un secchio di lava per far danno agli scheletri che si raggruppavano nello stesso gruppo dalla 1.11 non ci possono essere più di 24 unità per blocco e quindi ho deciso di optare per questa situazione che non so bene se sarà definitiva o provvisoria e quindi ora loro cadono si come dire si fanno largo nei blocchi abbiamo molte unità e noi dobbiamo semplicemente cepparli da qua sotto prendiamo l'esperienza e i drop vengono messi in questa chest e questo è lo spawner di scheletri usciti dallo spawner invece andiamo da queste parti e queste parti sono belle ricche io direi di partire da questa così vi faccio vedere un po' le strutture che abbiamo in questa zona qua abbiamo un sentiero un bel albero di spruce che è cresciuto qua e ho voluto ottenere e qua abbiamo un bel orto delle zucche perché qua in questa zona abbiamo la farm di rotaie infinite ora la vedete così ed è una versione automatica assolutamente se noi premiamo qua infatti come vedete genera rotaie infinite ma all'inizio non era così sfruttava un principio in cui dovevamo piazzare delle zucche appunto e dovevamo ogni volta spaccarle prenderne delle altre ora qua metto ecco anche le rail e quindi in realtà mi servivano le zucche quindi ho fatto da queste parti appunto il nostro orticello delle zucche si era incastrato il cavallo e qua abbiamo anche una piccolissima farm di liane che in realtà io posso reperire dalla giungla che abbiamo qua vicino da questa parte poi andiamo avanti abbiamo un bel ponte che ci porta nella zona innevata che è questa nella zona innevata prima avevamo le farm di carne automatica che poi rifaremo in futuro in maniera diversa magari in un'altra zona e qua abbiamo la prima struttura che è una piccola baita abbiamo infatti qua crafting table o meglio fornace scusatemi doppia chest qua si sale abbiamo dei quadri è bella arredata qua abbiamo una crafting table appunto un'altra chest e il letto molto piccola questa baita però mi ricorda appunto qualcosa di invernare qua invece dove c'erano le farm ho deciso di sfondare tutto e piantare un bell'albero di spruce che vorrei far diventare il nostro albero di natale da questa parte invece ho lasciato la farm o meglio il frutto della farm di carne automatica delle pecore perché da questa parte vorrei fare delle strutture legate all'oro di fronte a noi invece superando la neve abbiamo il nostro igloo che è la nostra farm di ghiaccio eccola qua la nostra farm di neve mentre se noi andiamo da questa parte incontriamo questo sentiero che ci porta ad una struttura molto particolare che a me piace particolarmente ovvero la farm di slime il design esterno è un qualcosa che ho pensato in questo modo ovvero una vecchia struttura di un mondo che c'era prima del mio arrivo che è stata distrutta da uno slime gigante che ha mangiato la torre infatti è molto diroccata e ora noi entriamo abbiamo questa piccolissima stanza e anche qua abbiamo un sistema di risalita in pratica fatto con delle scale di legno normali mentre scendiamo in velocità usando l'acqua ci ritroviamo qua abbiamo anche qua un letto una crafting table e le solite cose e qua dentro abbiamo la farm di slime che sfrutta un principio molto molto semplice gli slime attratti dai golem vanno a finire qua sui cactus si ammazzano e noi qua raccogliamo le slime ball che ora non ci sono perché le ho raccolte poco fa perché volevo completare lo slime gigante al piano superiore e quindi questa è è molto semplice usa la clay verde mi piace il design è molto semplice in realtà niente di troppo complicato però ho deciso di raddoppiare la utilità di questa farm aggiungendo qua questa chest qua come vedete invece abbiamo un po' di palle di gelatina le lasciamo qua che è collegata ad un altro piano infatti ho deciso di fare un secondo piano per gli slime che è qua che sfrutta lo stesso principio ovviamente non ho fatto lo stesso design perché possiamo prendere le slime ball dalla cassa in basso e quindi è quella la vera farm di slime qua in realtà non ci dovremmo neanche passare però volevo farvi vedere è molto semplice qua abbiamo tutto un circuito di come dire di hopper che portano le slime ball fino al giù quindi al secondo piano al piano inferiore ovvero mentre qua ho semplicemente la zona dove io sto a fk e quindi praticamente lascio fare tutto all'islime ora ve la faccio vedere in velocità è un piccolissimo cunicolo nella roccia eccolo qua io mi metto qua a fk e poi posso uscire e questa è la nostra farm di slime superato il ponte di legno della zona innevata torniamo qui che in realtà è la piazza principale del mio mondo abbiamo delle pecore che devo ancora farmare e costruire appunto una farm di pecore che magari metterò laggiù insieme a quella di mucca e di maiali e abbiamo delle cose interessanti qui intanto abbiamo questa struttura ora scendiamo da cavallo e la raggiungiamo abbiamo questo cunicolo e abbiamo qua un kart quindi noi ci saliamo premiamo abbiamo delle rotaglie qua invece abbiamo tutto il percorso che ci porta alla nostra miniera eccola qua abbiamo anche un bel design e in realtà è tutta fatta in una cava ora ve la faccio vedere intanto qua la miniera è da finire come vedete è molto molto grezza devo ancora completare il tutto qua all'interno ma qua abbiamo l'esterno ho fatto queste gabbie che sono le ex miniere che poi ho illuminato quindi da qua non dovrebbero sponare mob mentre qua ho messo dei fiori ho messo tante cose il prato eccetera ho fatto una sorta di struttura che ricorda una rail di legno e un braccio meccanico abbiamo anche una cascata qua in realtà muoiono le squid sapete quindi in realtà potrebbe anche essere una farm di inchiostro senza volerlo mentre da questa parte noi raggiungiamo appunto l'interno della miniera che come vi ho detto è da terminare e abbiamo due rotaglie una che porta il kart che abbiamo nel magazzino fino alla nostra miniera e qua invece abbiamo la discesa della miniera molto classica non ho fatto nessun design ci penso sempre in realtà non so se voglio fare un design per questa zona anche perché non veniamo spesso insieme però probabilmente magari in futuro lo farò abbiamo una lunga stanza semplicemente dei cunicoli che si diramano qua siamo ad un livello molto molto basso infatti siamo a livello 10 l'ideale per cercare diamanti e altri materiali e il nostro kart come vedete qua arriva dal nostro magazzino lo riempiamo lo facciamo ripartire lui si svuota e poi torna qua e noi in tutta tranquillità possiamo continuare a minare questa è la mia miniera usciti dalla miniera invece ci ritroviamo la nostra scuderia che racchiude in sé solo un cavallo ho solo questi due cavalli vorrei prenderne altri di altri colori e farli farmare e quindi accoppiare per avere più colori possibili magari anche il mulo in futuro perché no è questa zona abbastanza vuota però qua di fronte a noi abbiamo il nostro monumento all'addio all'estate che abbiamo fatto per celebrare l'arrivo dell'autunno e abbiamo un cono gelato e un drink oltre abbiamo appunto il monumento dei nostri progetti che vi ho fatto vedere all'inizio dell'episodio è molto semplice niente di troppo particolare ma volevo qualcosa che ricordasse appunto i progetti in corso e in questa zona abbiamo qualcosa di interessante abbiamo il ponte e la foresta dei funghi che è l'ultimo progetto che abbiamo fatto nello scorso episodio eccola qua che mi piace un sacco perché è bella verde è bella folta e oltre abbiamo la nostra iron farm molto semplice è un design molto strano perché è bassa è più bassa del solito e guardate quanto produce è davvero molto efficiente questa iron farm abbiamo poi qua le nostre extreme hills non abbiamo costruito nulla qui invece abbiamo una stazione in pratica il nostro minecart arriva qua noi scendiamo e questo minecart va in una struttura che mi piace particolarmente forse è la struttura che preferisco del mio mondo guardatelo un po' è un lunghissimo ponte fatto con le fence di acacia rossa e le slab di pietra e questo ponte congiunge due parti del mondo che in realtà sono relativamente lontane ora noi andiamo a fare il giro dall'altra parte così vi faccio vedere cosa c'è oltre il ponte mentre vado dall'altra parte vi faccio vedere la mia produzione di canne da zucchero che in pratica è un lungo percorso che abbraccia il nostro fiume ora raggiungiamo nuovamente la nostra zona centrale perché come vi ho detto parte tutto da lì tutte le strutture vanno in varie direzioni ma partono sempre dal nostro centro dalla nostra casa e dal nostro centro del mondo quindi andiamo da questa parte e da questa parte abbiamo intanto la nostra farm di cactus che è molto semplice sfrutta lo stesso principio del mob spawner in pratica abbiamo dell'acqua i cactus scendono tutti nello stesso punto e poi gli hopper vengono raccolti qua anche questo è molto efficace ed efficiente anche se in realtà qualche pezzo di cactus si perde perché magari spona su questi assi di legno oppure spona sugli altri cactus e quindi viene annullato però devo dire che nel complesso mi piace mentre qua abbiamo un altro bel percorso un bel viale eccolo qua che ci conduce a diverse strutture abbastanza simpatiche secondo me la prima è questa ovvero la casetta dell'enchantment table molto strana fatta un po' così ho deciso di utilizzare questo design abbiamo semplicemente una crafting table la anvil e anche una chest e poi abbiamo appunto la postazione dell'enchantment table con dei vetri è una forma particolare come potete vedere utilizza molte slab molto legno devo dire che il mio mondo è abbastanza legnoso ora che lo vedo però mi piace molto in realtà perché si trova comunque a stretto contatto con la natura ora io non sto girando chissà perché ma sto solo cercando il mio cavallo perché quello là scappa è un cavallo maledetto mi scappa sempre ogni volta devo fare mille giri per recuperarlo ecco dove sarà cacciato possiamo proseguire e oltre alla casetta dell'enchantment table abbiamo questo percorso che ci porta a una zona che a me piace davvero tanto il nether ha deciso di invadere l'overworld e di macchiare e contaminare la natura e quindi abbiamo la nostra valle infernale abbiamo degli alberi diversi abbiamo delle verruche del nether abbiamo una cascata di lava con delle fiamme che avvolgono questa valle e come vedete là c'è una parete con dei blocchi del nether mentre lassù abbiamo la nostra bella zucca di halloween che ci guarda e da questa parte abbiamo appunto il portale del nether che vediamo dopo però perché andiamo oltre andiamo oltre in questo piccolissimo tunnel in questo modo e raggiungiamo una bella struttura una struttura davvero particolare molto molto dispendiosa di energie perché sono dovuti andare a prendere i villager oltre 1700 blocchi da qua portarli attraverso il nether e costruire per loro questa sorta di palazzo il palazzo dei villeggianti con all'interno i nostri villeggianti che si riproducono noi con un meccanismo con un circuito che sfrutta il minecart e il bug dell'angolino dei blocchi possiamo prenderli e portarli dove vogliamo li possiamo ammazzare se non ci piacciono oppure portarli fuori e metterli dove vogliamo qui abbiamo un nostro villager simpaticissimo che è molto molto prezioso perché lui ha il ripristino ovvero il libro di mending ora ho minecraft in italiano non so neanche perché comunque saliamo al piano superiore e abbiamo la vera farm vera farm qua possiamo stare a fk mentre qua usciamo entriamo da questa parte e wow questa è una sorpresa perché lui non ci dovrebbe stare e lo dovrà ammazzare e qua avevamo solo due villager però purtroppo può capitare che il meccanismo che raccoglie i villager piccolini e li fa andare nel piano inferiore non funzioni quindi loro semplicemente non vanno da questa parte e crescono qua su e si verifica questo che non dovrebbe verificarsi quindi dovrò anche bonificare questa zona questa è la cellula di riproduzione dei villager comunque ecco ora posso andare via grazie salve salve a tutti tornerò sicuramente ad ammazzarla signor Iron Golem non si preoccupi intanto scendiamo perché voglio raggiungere un'altra parte un'altra parte che si trova appunto oltre il palazzo dei villeggianti aspettate qua ci sono i pilastri del ponte ecco qua che salto con il mio bel cavallino che in realtà salta abbastanza e qua abbiamo un percorso con delle stazioni che si ricollegano al ponte da caccia rossa quindi la Iron Farm che ora vi farò vedere si trova abbastanza lontana è connessa tramite minecart oppure come sto facendo io possiamo andare anche a cavallo abbastanza velocemente e in pratica congiunge tutto il mio mondo nelle varie zone e quindi mi piace un sacco questo ponte davvero c'è voluto tantissimo per costruirlo ma il risultato è bellissimo e soprattutto qua entriamo dentro un albero e raggiungiamo la stazione di prima ora torno indietro perché voglio farvi vedere ciò che ho fatto nel nether eccoci tornati nella valle infernale possiamo entrare nella stanza del portale che è questa sfrutta lava e praticamente tutti i blocchi e le caratteristiche del nether con un letto dove possiamo dormire e soprattutto da questa parte c'è il portale che ci permette di raggiungere il nostro hub nel nether eccoci arrivati devo dire che questo hub nel nether è stato fatto nei primi episodi della serie e infatti come potete vedere sfrutta dei materiali abbastanza basici ecco in futuro mi piacerebbe cambiarlo tutto farlo molto meglio con molti più dettagli ho fatto un po' di dettagli con l'erba che in realtà non mi dispiace avere un albero che ho costruito io nel nether e abbiamo tre diverse direzioni anche qua questa porta ci porta scusate il gioco di parole alla fortezza nel nether che abbiamo trovato che si trova relativamente vicino casa ora laggiù c'è un ghast e che non raggiungiamo semplicemente perché non ho fatto nulla l'ho solo scoperta è abbastanza grande non l'ho neanche esplorata tutta quindi probabilmente lo faremo insieme più avanti e vedremo anche di collegarla al nostro hub del nether ma abbiamo due direzioni importanti la prima è questa che voglio cambiare perché come vedete è molto molto grezzo il tutto ora saliamo sul minecart la nostra farm di rotaie infinite mi assiste davvero e mi permette di creare questi lunghi tunnel che ci portano in diversi biomi come vedete il tunnel che mi porta in questo bioma è fatto completamente di nether che è molto molto brutto da vedere non ho mai speso energie per crearlo migliore abbiamo però un portale che ci porta in un bioma molto particolare molto utile questo portale come potete vedere anche dalla compagnia che abbiamo salve signor creeper salve signor scheletro che sta prendendo fuoco è il bioma della mesa la mesa è utilissima a me piace un sacco la clay abbiamo la possibilità di creare e costruire tante cose colorate con la clay e questo si trova a diversi blocchi di distanza da casa in realtà e quindi sono riuscito a trovarlo con una grande navigata in bar che ho deciso di collegarlo tramite il nether e quindi ogni volta che voglio della clay semplicemente mi metto sopra il mio minecart e raggiungo tramite questo come dire questo percorso molto molto grezzo ancora da modificare il bioma della clay dalla parte opposta invece alla clay e quindi al bioma al mesa biome abbiamo un altro bioma che raggiungiamo sempre con le rotaie anche se qua ho speso un po' di tempo per fare un design particolare per il nostro corridoio qua infatti ho deciso di utilizzare il legno con una dovuta protezione ho deciso di utilizzare il vetro e anche il granito e la cobblestone per creare una stanza con un portale bello grande che ci porta circa 2000 blocchi di distanza da questa parte ok che ho fatto saltato il portale e stavolta ci troviamo nel deserto un deserto molto molto importante per me perché come vedete è contaminato da rotaie e anche da percorsi perché è stato il primo villaggio che ho trovato ed è stato qui che ho preso i villager per la farm di villager quindi pensate un po' tutto il lavoro che c'è stato dietro per creare le rotaie che poi ho tolto e qua soprattutto ora vi farò vedere ho distrutto mezzo deserto perché con le costruzioni in realtà utilizzo abbastanza sabbie quindi vengo qua a disfare il tutto laggiù abbiamo il primo deserto da questa parte invece ne abbiamo un altro dove ho trovato il villager che è il farmer che non ho trovato all'inizio è stato molto molto complicato fare il tutto oh intanto si sta anche facendo notte quindi dormiamo qua nel deserto e questo si trova all'incirca a 2000 blocchi dalla nostra base quindi in realtà anche in questo caso è stato un po' difficile fare il tutto ma ci ha evitato un viaggio impossibile con i nostri villager e quindi è stata una bella mano d'aiuto e siamo tornati a casa sto ripercorrendo il mio bel sentiero che mi riporta la mia isola sospesa centro e fulcro del mio mondo perché voglio salire un attimo a casa eccoci qua grazie mille cavalluccio che mi assisti in tutto ciò saliamo con il nostro bel ascensore ho anche buttato una freccia infuocata nel farlo benissimo e da qui come potete vedere appunto abbiamo una visione completa di tutto tutto il mio mondo è un mondo ancora come dire neonato è ancora vuoto ancora mancano tante farmi importanti mancano anche strutture più personali devo dire ma ho in mente tante cose molto è stato anche dovuto al cambio di versione la 1.11 ha reso vane molte molte cose quindi ho dovuto fixare alcune cose renderle migliori e quindi adattarle alla 1.11 questo ci ha portato un po' fuori tempo con le costruzioni ma non significa nulla perché come vi ho detto ho un sacco di idee voglio migliorare ciò che c'è voglio creare altro e voglio rendere questo mondo migliore oh guardate un po' da qua si vede anche ecco il nostro slime gigante non l'avevo ancora visto quindi la farm di slime si vede anche da qua e quindi questo mondo è solo all'inizio in 50 episodi però credo di aver fatto abbastanza se devo dirla tutta certo non abbiamo ancora trovato l'end quindi non abbiamo trovato la stronghold non abbiamo ancora craftato degli enderai per raggiungerla quindi sono cose che vedremo probabilmente più avanti siamo solo all'inizio ma nel complesso non mi posso lamentare questo è il mio mondo è il mondo che ho scelto che ho scelto di condividere con voi e che spero vi piacciono in complesso vi piacciono le strutture eccetera ora che dire io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui questo è il mio mondo della vanilla che spero vi sia piaciuto e se è così vi invito a mettere un mi piace iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto vi lascio due video nella scheda finale e come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti